Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita della Juve, Parma-Juve, che è finita 0-4 per la Juve. Sono contenta, sono contenta perché è stata una partita tranquilla. Sì, il Parma ha avuto qualche occasione, ma la Juve ha abbastanza dominato oggi. E meno male, cioè, no, che debba sempre perdere 10 anni di vita, per favore, finalmente. Anche se all'inizio, appunto, ero preoccupata perché con la pareggite che ha la Juve avevo paura che il Parma facesse lo scherzetto, considerando anche che ha fatto lo scherzetto a Inter-Napoli, e quindi, sì, no, scusate, Inter-Milan. Quindi non era da sottovalutare. Fatto sta che Gervinio oggi non l'ho visto perché è stato tenuto bene da Delicta, e Bonucci, diciamo che quando Gervinio veniva tenuto da Bonucci c'era Danilo che doveva andargli a dare il raddoppio. Danilo, bella prestazione, anche se verso il finale ha sbagliato un pallone lì che ha creato un'occasione del Parma, ma poi, però per il resto ha fatto tutta una bella prestazione. Delicta buona, Delicta benissimo, Bonucci bene, comunque, sì, ogni tanto si faceva scappare qualcuno, però per il resto ha fatto bene. E' stato anche attento su tante palle che viaggiavano lì in area pericolose, lui le spazzava sempre via. A centro campo oggi giocavamo con Bentancur, Ramsey e McKennie, partita mostruosa di tutti e tre. McKennie si meritava il gol, dai, cioè McKennie era sempre in area e i giocatori del Parma marcavano più McKennie che Ronaldo. Cioè, nei due gol veramente nessuno marcava Ronaldo, nei due gol di Ronaldo, intendo, e marcavano sempre tutti McKennie, ma che caspita, ma fateglielo fare un gol. Vabbè, comunque peccato, in ogni caso bellissima prestazione. Ovviamente poi è stato sostituito, perché Pirlo probabilmente ha voluto farlo riposare, visto che è da parecchie partite che non riposa lui. Bentancur ha fatto una partita mostruosa. Ramsey. Ramsey, allora, ha fatto una buonissima partita. Ramsey c'ha quella cosa lì che ogni tanto esagera e perde palla, poi, e ripartono i contropiedi, giustamente. Però alla fine ha fatto anche un assist, mi sembra. Comunque, se dobbiamo parlare dei gol, allora, primo gol, che arriva dopo 15 minuti, mi sembra, o 20 al massimo. Gol di Kulusevski. Alessandro fa un cross basso, Morata la prende di tacco, diciamo, cioè la prolunga di tacco, ecco, e la palla passa per tutta l'area, nessuno la prende, ci va Kulusevski, che da destra la calcia e la manda nell'angolino a sinistra. Bel gol. Sì, Kulusevski non li sa fare brutti, cioè quando li fa, li fa belli. In ogni caso, secondo gol arriva dopo circa 5 minuti di Ronaldo. Ronaldo, cross di Morata, bellissimo cross di Morata, veramente allucinante. Ronaldo, che nessuno marca, nessuno infastidisce, proprio lo lasciano da solo in aria, Ronaldo stacca e la butta dentro di testa. Stacca e va in cielo, perché ha saltato parecchio alto, e la butta dentro di testa. Nel secondo tempo arriva il 3-0 per la Juve, Ramsey serve Ronaldo sulla sinistra, cioè serve un inserimento di Ronaldo, e Ronaldo golla la Ronaldo in contropiede, facciamo conto. Cioè, la palla va, Ronaldo era a sinistra, calcia, palla che va nell'angolino a destra. Poi, quarto gol, sto facendo mente locale su chi ha fatto l'assist, Bernardeschi, credo che è entrato nel secondo tempo. Bernardeschi fa il cross per Morata, Morata con i tempi giusti la mette in porta. Quindi 4-0, bene. Appunto, Ronaldo e Morata hanno fatto bene, Morata si è mangiato due gol davanti alla porta, cioè, veramente, non ho parole. Però, beh, uno che era proprio clamoroso, l'altro ci poteva stare, oppure mi sembrava che l'altro fosse in fuorigioco, quindi, vabbè. McKennie, tra l'altro, nei minuti iniziali aveva servito un assist a Ramsey, che era veramente allucinante, con lo scavetto, palla che va a sorpassare tutta la difesa del Parma. Ramsey, che prova a metterla dentro in acrobazia e non la prende, ma lì, secondo me, se la stoppava e la metteva dentro, era gol. Cioè, se la stoppava, era gol, perché dopo gli bastava accompagnarla. Vabbè, comunque, sono contenta. Prestazione stupenda. Ci vediamo in un prossimo video, domani, perché gioca l'Under-23, e quindi, niente, ci vediamo domani. Sono entrati, prima di andare, sono entrati anche Portanova, che ha fatto bene, a parte una palla che ha perso. Bernardeschi, che ha perso due o tre palloni, anche quattro, però poi ha fatto l'assist per il quarto gol. Quadrado, che quando è entrato Quadrado, io ho detto, vabbè, adesso prendiamo gol, perché c'è due terzini come centrali. Vabbè. E è entrato qualcun altro? Boh, non mi ricordo. Ah, sì, Chiesa. Chiesa al posto di Ronaldo. Ha fatto bene, ha fatto tre o quattro, tre o quattro, su serio? Cioè, in dieci minuti ha fatto tre o quattro azioni individuali che è andato fino in fondo e ha provato a mettere dentro. Alcune volte ha preso l'angolo, altre niente, però... Bene. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre fino alla fine, forza, Juve. Ciao!